Dov'è il nostro gelido infiltrato? È lui. Dobbiamo andare, subito. Nessuno va da nessuna parte. Consegnaci il motore. Scusa, riccioli d'oro, ma ho finito il porridge. Cosa facciamo? Possiamo affrontarli tutti? Sì, possiamo. Insieme. 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 Tom. Adesso, dove è la tua velocità? Flesch. Quindi il nuovo complice dei nemici è un velocista? Sì. La cosa più spaventosa mai vista. E c'è di peggio. Usa la velocità negativa. È così che ha smorzato la mia velocità per qualche minuto. Perché a un velocista serve una macchina del tempo? Nelle tenebre la rovina. E la morte rossa distesero su tutte le cose il loro dominio sconfinato. Edgar Allan Poe. Conosci il racconto? Insette a una festa in maschera. Uccisi da un ospite sconosciuto. Sentite, so cosa state pensando. Ma questo non è più solo un furto di tecnologie. Non so chi sia il nuovo velocista, né perché voglia costruire una macchina del tempo. Però il team Flash da solo non può fermarlo. Soprattutto ora che ha il suo esercito di nemici. Ho bisogno di voi. Di tutti voi. Barry, questo non era nei nostri patti. Ma ho un figlio qui da proteggere. Quindi, se hai bisogno di me... E va bene. Mi piacciono le storie di riscatto. E poi con Central City rasa al suolo saresti disoccupato. Ho detto che vi aiuto. Scoprite di chi si tratta. Scoprite il suo punto debole. Poi chiamateci. Fidarsi di loro non era poi una brutta idea. Sì, lo so. E se questo velocista fosse il nuovo... avatar della forza della velocità negativa? Già, sembra ieri che ci siamo liberati dell'ultimo. C'è qualcos'altro. Aveva un simbolo sull'armatura. Un pipistrello. Barry, dobbiamo parlare con Chester.